50 al muro, tornante destro su fonte, 60 piega destra in sinistra, 5 più, per destra 5 più più, per sinistra 5 più più due volte, subito piega destra, 30, piega destra, piega sinistra, 100, tornante sinistro, 100 affinerei il taglia, destra 5 più più, per piega sinistra lunga, per destra 5 più, per destra 5 più, per piega sinistra e sinistra 5 più, per destra 5 più più, 50, tornante destro 20 sinistra 5 più più, in destra 5 più più, e sinistra 5 più più, 30, destra 5 più più, e sinistra 5 più, 50 sinistra 5 più più, due volte, la seconda diventa più, e destra 5 più, per sinistra 5 più più, lunga, 30, tornante sinistro, 30 più pulito, per destra 5 più più, per destra 5 più più, per piega sinistra, in destra 5 più più, lunga, lunga gira, 80, tieni giù, tornante destro, cieco, eccolo in sinistra 5 più più, in sinistra 5 più, in sinistra 5 più, in piega destra, 50, piega sinistra 2 volte, 80, sinistra 5 più più, in piega destra, 50, albì, ritornante sinistro, per piega destra, 50, piega destra, 50, piega destra, 30, e destra 5 più più, e destra 5 più, per piega sinistra, per piega destra, 50, piega sinistra, per piega destra, per piega sinistra, 20, e sinistra 5 più, per piega destra, per piega sinistra, per destra 5 più più, tieni giù, 100, tieni giù, tornante destro, Per piega sinistra, meglio di uno, per piega sinistra 30, piega sinistra 150, Albiri sinistra 5 e più in piega destra, 30 in piega destra 30, piega destra 80, piega sinistra per taglia piega destra, per piega sinistra 50, tornante sinistro 100. Al cartello rovescio stacca destra 5 e più per sinistra 5 e più 100, piega destra per piega sinistra, per piega destra 50 e destra 5 e più più, tieni giù 80, piega sinistra e nella piega sinistra stacca per tornante destro 30, piega destra Piega sinistra 100, sinistra 5 e più più, credi ci sono tutte e due piene, due volte vai, 100 Al ponte piega sinistra per stacca destra 5 e più, per piega sinistra 50, piega destra 50 e attenzione sinistra 5 e più 30, tornante sinistro stretto 20 Destra 5 e attenzione sinistra 5 e attenzione sinistra per piega sinistra 5 e più più, per destra 5 e più più 30, piega destra piena, tieni giù 150, al rail destra 5 e più più, credici Mario Per piega sinistra 30, destra 5 e più per sinistra 5 e più, per destra 5 e più e per sinistra 5 e più 50, piega destra piena, piena 30 la casetta, piega destra piena Stacca al palo destra 5 e più e per sinistra 5 e più, non tagliare 80, non tagliare 50 e sinistra 5 e più più 150 Dai Mario Dai Mario Dal strac 5 e più più, 200 Al secondo cartello dal strac 5 e più più, lunga e stacca per tornante sinistro Veloce uscita su tornante, veloce uscita 30 Bravo Mario